Allora ragazzi, già da qui, da questo selettore, di che auto si tratta Un touch, dell'88 Non c'è spazio per i piedi, i pedali ravvicinati, cambio durissimo ma preciso Sterzo durissimo, poco spazio, il finestrino si abbassa al massimo così Non di più, visibilità zero, praticamente dietro zero Naturalmente autoradio Alpine, rigorosamente anni 90 Però direi spegniamo la radio perché qui dobbiamo ascoltare il motore Non c'è spazio, non c'è spazio, non c'è spazio Un co-kart Questa è una iniezione elettronica perché è americana La nostra era carburatori, poi dopo l'hanno fatta iniezione Però il sound del V12 è una roba impressionante Non c'è spazio, non c'è spazio, non c'è spazio Bellissima come si intraversa Spettacolo Cambio veramente preciso Prima in giù, tipo Porsche Non c'è spazio, non c'è spazio, non c'è spazio Non c'è spazio, non c'è spazio, non c'è spazio Non c'è spazio, non c'è spazio, non c'è spazio Non c'è spazio, non c'è spazio, non c'è spazio Non c'è spazio, non c'è spazio, non c'è spazio 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 Grazie a tutti.